Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nei panni di Maria Grazia Buccella, cosa ti sei sentita in quel momento che stavi recitando? Beh, una gran bella donna Maria Grazia Buccella, forse un pochino un po' troppo nuda, onorata ecco. Devo dire che mi sono più sentita sotto la regia di Cavallaro però, non mi sono riferita al film. Anche perché lui non si riferiva al film. Quindi io non mi sentivo, Maria Grazia Buccella devo dire, mi sentivo la moglie dell'onorevole Panceroli. Che l'avete un po' bistrattato questo onorevole. Un poverino. Un poverino, eh? E' un po' bistrattato emotiva e sessuale della moglie. Non solo, anche quello di mettere a posto le tende. Ah beh, certo, quello è sicuro. Grazie a Cavallaro è un continuo cadere di tende. Mi avete fatto morire con questo. Comunque, comunque, come ti sei trovato in quella parte che hai dovuto sostenere? In mutande, devo dire. Praticamente metà spettacolo faccio in mutande, quindi in mutande. No, mi diverte molto. Soprattutto il fatto di poter fare tutte le controscene dietro, eccetera, mi diverte molto. Devo imparare poco a memoria, quindi va benissimo. C'è la parte più giusta. Sì. Questa gentile fanciulla, quando ti dà in testa la bottiglia, anzi no, la da lui, sì, il marito, che adesso arriviamo anche da te, ti è andata male questa volta? Stasera si è sentito il tocco, proprio il tocco, l'avevi preso troppo in basso e pum, però va bene, va bene. Tutto un mestiere che entra, si diceva una volta. Sì. Ecco, e adesso qui abbiamo l'onorevole. Abbiamo l'onorevole. Eccomi, ci sono. Onorevolissimo. E quindi? Beh, l'onorevole diciamo che si destreggia un po' in mezzo a questo mangiapane a tradimento e a questa moglie così tanto carina, che però insomma la sa lunga, ecco. Molto lunga. Sì, lunghissima. È poco vestita. Esatto. Ma perché fa caldo? Fa caldo e allora ho il vizio di andare in giro nuda. Sì, io penso che il pubblico apprezza. Mi auguro abbia apprezzato perché altrimenti mi faccio due domande. No, no, no. Non farti domande perché, credimi, il pubblico ha apprezzato. Bene, sono contenta. Non devo andare dal chirurgo allora. No, 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 no. Tutto valido. Sono salva. E tu? Hai fatto il col... Non parlare. Hai fatto il col... No, 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 no. Tu hai fatto il colpo di scena perché è stato... Alla mia età si fanno solo i colpi di scena. Alla mia età si fanno i colpi di scena. E quindi non diciamo niente sul tuo perché deve essere un... Deve essere una sorpresa. Diciamo che mi diverto tantissimo a fare questo giornalista alla ricerca di gossip, di sapere cosa succede soprattutto nelle camere da letto dei vari ministri. Chi sono? Più che altro questo è interessato. Il resto del... Cosa fa il ministro a livello politico non interessa niente. Deve sapere cosa fa il ministro in camera da letto. Il classico gossip paparazzo è un ruolo simpatico. Mi diverto molto a farlo. Lui è la nostra Barbara D'Urso in realtà. In verità sono Barbara D'Urso. E anche tu. Come ti sei trovato in questo personaggio tenendo presente che tu fuoriesci, se non vado errato, dai famosi tre moschettieri? Sì, io esco da quella cosa meravigliosa che sono stati i moschettieri del teatro del TPE. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa e proprio per questo mi diverto a farlo. perché essendo completamente io nei moschettieri facevo Richelieu, per cui completamente ruolo... Pensa come ti sei ridotto. No, assolutamente no. Anzi, è bello il nostro lavoro poter fare, variare diverse tipologie di ruoli, spettacoli, registi. Secondo me è una cosa molto bella variare. E qui mi diverto come mi sono divertito a fare i moschettieri. Ogni spettacolo credo che resta nel cuore di ognuno di noi quando si fa. Certo. Allora, intanto ricordiamo i nomi. Antonio Sarasso. Maria Occhiogrosso. Fabio Mascagni. Che sei? Il fratello del produttore. È così che si ottengono i ruoli. È così che si ottengono i ruoli. È basta. Lo diciamo alla mamma. E io sono il padre del produttore Alberto Barbi. Poi la gente ci crede. No, no, ma è vero. È un nostro segreto. Basta, è ora di dirlo. È ora di dirlo. Papà. Sono come in guerra stilare. Sono suo padre. Lui è Alberto Barbi. L'ho detto, Alberto Barbi. Alberto Barbi, lo ridico. Allora, in questa commedia c'è veramente di tutto e di più. E sicuramente fa ridere fin dall'inizio. Perché ciò che si vede in scena non si immagina neppure. Perché questi quattro personaggi creano un bailame totale tra le tende che cadono, gli scoop che stanno nascendo strada facendo e le tresche che ci sono. Vi ho già detto fin troppo, ragazzi. Io direi, se capita l'occasione, andate a vederlo in qualunque città d'Italia. Grazie, grazie Daniele. Prossimamente però siamo sabato e domenica al Teatro Erba a Torino. Quindi la gente di Torino, venite, venite, venite. Vi aspettiamo in tanti. Benissimo. Quindi avete sentito. Non perdete questa commedia brillante, veramente, di Marco Cavallaro. Che è ottima. Dal titolo Dove vai tutta nuda?